Ragazzi benvenuti per i trovati sul mio canale e io sono Magro Sussi Abbiamo appena iniziato la storia dovevamo mettere in salvo sia Hammond che Kendra però dovevamo trovare comunque un posto al sicuro per cui abbiamo trovato la scheda del computer abbiamo trovato anche la chiave del centro adesso dobbiamo installare la scheda dati. Secondo me Star Wars GD Portal Order aveva preso spunto la Dead Space bella mappa. Quelle qua non si capisce una mazza Ha sbagliato stata la mazza Mi fa piacere mi fa piacere. Di qua forse è sbagliato. Anche ora perché premo tutti questi tassi sbagliati? Dobbiamo soltanto installarla Tu vivi ancora? Si sono ancora là. Tu vivi ancora Computer di trasporto attivo Trasporto internave reinizializzato. Tutte le vetture operative. Vetture in arrivo sul ponte di volo Quarantena annullata Bene siamo a bordo e ci dirigiamo verso il ponte ottimo lavoro Strano la quarantena è cessata Qualunque cosa ci fosse sul ponte di volo se n'è andata per fortuna Isaac tornala a Kelly o ne preparala per il lancio Scopriremo il possibile sul ponte e poi ti raggiungeremo là Se saremo ancora vivi Stai esagerando eh Questo è un suicidio. Moriremo in questo posto Ho capito che non ti fai di me, Daniels Ma io ho una missione da compiere ed è esattamente quello che intendo fare Con te o senza di te Allora ci siamo capiti Cerca di farci uscire vivi La signorina è proprio ottimista eh Proprio tanto tanto ottimista Vabbè allora vediamo se diciamo a becca Qualcosa qua dentro C'è altro l'asma? Sì perché ho capito che in pratica Hit medico È vero che conviene tanto colpire però Molte volte quasi non ci riesco Allora Tipo ci dai anche un'arma migliore? No? Vediamo se c'è qualcosa che possiamo migliorare L'acqua Non c'è l'asporti Carta carburante C'è niente qua Va bene Allora occhio mi raccomando Questo all'improvviso Mincadano all'improvviso Brutta zona questa Noto con piacere che Da là quel punto era È ramentata la nebbia Non c'è sta niente Una birretta Mi stanno terminando le Mi stanno terminando le Le cassette per terra Mi metto lontano Che è meglio Meglio essere Quattro colpi Meglio essere pronti Quattro colpi Quattro colpi Quattro colpi Ma che sta succedendo Si sta scassando pure tutto Grazie a me Oddio mia Questo è il scassatore impossibile Oh Aspetta forse c'è qualcosa Che è qua Isaac Siamo arrivati al ponte Qui è un vero inferno Non ci sono superstiti Ora cercheremo di raggiungere Il sistema di controllo Auguraci buona fortuna Lui sta trovando l'inferno Non hai idea a noi Amico mio Amico frizz Allora Vediamo se c'è qualcosa Che ci può interessare Qua Tanto lo savo io Secondo me alla fine del gioco Forse imparerò Per azzeccare qualcosa Questo che c'è Salviamo Che è sempre meglio Io ho visto che non è che Si è complicato C'è quel Non so quel perché Uh aspetta Ok Allora Ho visto qualcosa Che si arrampicava E questo è come Qualcuno penso che posso Migliorare qualcosa No Occhio che ne ho visto uno Che stai Oddio mio Devo essere un po' più preparato Avevamo zero colpi in canna Sì Si si entra qua dentro Non è che qua ci troviamo qualcosa No Ok Ah di qua Magari qua dentro ci trovo qualcosa No No Che stai Niente Vai Occhio che sono Che stai Credo di aver combinato un guai Porca miseria, porca mi colpisci, capisci? E colpisci? E colpisci? Scappa, scappa Madonna, è sempre a 50 Ia, ia, ia Non è che c'è bisogno di un kicker Occhio, occhio, luce E sta ancora vivo, questo Dove sta? Che succede laggiù? E che si... Era il nostro biglietto di ritorno L'unico modo per andarcene No, Eamond Questo cambia tutto Lasciami pensare Puoi accedere al sistema di controllo? Non funziona C'è un blocco esecutivo di tutti i sistemi primari Senza l'autorizzazione del capitano Non posso accedere Allora, dov'è il capitano? Let's get up Eccolo qui Capitano Benjamin Matthews Posizione Infermeria Stato Deceduto Cosa? Come? Non posso accedere a quei dati Trova il capitano e avrai il suo rig Con i suoi codici di autorizzazione Posso far funzionare questo computer Dannazione Isaac Rimando il trasporto alla tua posizione Raggiungi l'infermeria e trova quel rig Ma fanno in fretta Cosa è stato? Ciao Ops Per qualcosa Va bene, andiamo avanti E c'è scelta da spush Ops 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 Non si capisce Non si capisce una mazza Un computer Allora, attenzione Perché Lo vedi ce l'hanno attaccati Oppure tanto Lo qua che vale che c'era un punto per salvare No Prendi qua No Teniamo le aumentate Non si vede niente Ok Riporiamo queste che è sempre meglio Deve essere un punto dove salvare qua Quindi è meglio che salviamo Che è sempre meglio E andiamo Di qua Vai Non è blocca Apertura Apertura Ok Ascensore Mi tengo sempre pronto Per qualsiasi evenienza Tanto Tenere due colpi in canta È una cavolata Perché poi fondamentalmente Con due non ce la facciamo Dove stai salendo Questo non è un oggetto Vabbè Ok Ma Va facciano così Fuscili Fuscili È tutta Ok Vediamo Fusciamo vivi da qua dentro Vabbè Quasi uguali Cambiata poco Dovrei avere anche Fuscili Ok Cassaforte Voglio capire Soltanto una cosa Come cambiamo Le icone delle armi rosse Indicano l'assenza di munizioni Le caricature Le icone delle armi rosse Le icone delle armi rosse Ok Ok 50 Vabbè C'ho quest'arma Che forse potrebbe essere migliore Questa cos'è? Riparazione Ah ok Per riparare Lama Ma tanto Sti nodi Non ce l'ho Forse così Basta Ci non sembra male A un modo Piano piano Ma no Vediamo se Non si scassa niente Qua è che non c'è niente? Non c'è niente qua È solo un repartito Ma che c'è? Che c'è? Mi sono incartato Ok Obiettivo completato Questa è soltanto Il primo capitolo E salviamo Certo Qua Va tutto bene Mikoy È qui Non devi avere paura Sapevo che Saresti arrivato Come avevi detto Io Io Ho tenuto Questo per te Ah Non è una visione Posso andare ora Mikoy Vuole portare Alla navetta Usa l'arma cinemarica Per spostare E lasciare oggetti Ah ok Non è che Dovevo spostare Alla navetta Dovevo spostare Pensavo dovresti Spostare a lei Sono morti Questi qua Accogli i documenti Per aggiungere L'aggetto Accogli i documenti Per gli nuovi oggetti Certo Lanciafiamme Acquisito Wow E dove sta Lanciafiamme Allora Allora Un momento Vediamo dove sta Lanciafiamme Inventario Lanciafiamme Lanciafiamme Ho letto Lanciafiamme Evidentemente Forse si dovrà Poi dopo Qui Siamo stati attaccati Kendra è sparita Era qui con me E poi L'ho persa Dannazione Possiamo ancora farcela Portami i codici Del rig del capitano E troveremo Nicole Pare che l'equipaggio Abbia bloccato L'accesso al settore Emergenze Dovrei farlo saltare Per raggiungere l'obitorio Prendi della termite Nel deposito medico E una piastra shock Nella sala di terapia Zero G In fondo al corridoio Le comunicazioni Sono inutili Con questa Antatica Ma non ho capito Una mazza Però Fa niente Dai Devo recuperare Un po' di cose Negozio Ho letto Lanciafiamme Non credo Di aver recuperato Abbastanza Roba C'ho crediti Ah vedi Schema scaricato Lanciafiamme 5000 1200 Energia Plasma Cristasi No Non posso prendere niente Ok Andiamo Di qua Tutte le armi Hanno una modalità Di fuoco Il contello Ah si Che roba era Oddio mia Veramente Ma chi è Ma è una porta Che siamo E si chiude Allora Mi ricordo Ok Non mi ricordavo Come si fosse Una nuova Stasi Ma sembra Tutto abbastanza Tranquillo Qua dentro Ho sbagliato Musica Musica Tranquilla Rilevata Anomalia Pericolosa Quarantena Attivata Ecco Ok Lucia Serve 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 Tanto Oh porca Miserie Porca Pericolosa Tutti i colpi Vediamo Se c'è qualcosa Qua Non c'è Niente Non c'è Ma sono Finiti i colpi Qua No Se un parabutto Soltanto Vabbè Non la conservo Magari Per dopo L'armi Mi la dobbiamo Un po' Migliorare L'arma Che è Sbagliato Stato No È andato È andato Ok Ma dovevamo Sapere Una Carica Ma Dici Dic Sbagliato Che è così Forte Una moto Guarda Porca 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 Quarantena Annullata Meno male Meno male Meno male Meno male Sto tranquillo Sto schiattando Penso Ma ho aumentato Tanto Allora C'ho un kit Un kit C'ho un kit Medico C'ho un kit Medico No Ecco qua Meno male Allora Qua stanno i cessetti I cessetti Si trova sempre Qualcosa di buono Finalmente ho convinto Jurgens A mostrarmi i filmati Della colonia E quello che ho visto È stato meraviglioso Fantastico Minatori che si stanno Trasformando in qualcosa Di straordinario Devo saperne di più Mentre il credente Che dentro di me Brama di diventare Uno di loro Lo scienziato Vuole svelarne i segreti Devo studiare Uno di questi Necromorfi Come li definisce Clinicamente Kain Devo assistere Di persona All'infezione Forse Quel paziente Dalla colonia Si Allora Vediamo se c'è qualcosa Di buono per noi Qua di noi Si 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 Ho recuperato Ho recuperato Allora Grande Tanto per cambiare Tanto per cambiare Ok Forse secondo me Dovevamo sfruttare Un po' meglio La stanza Di qua Di qua Si doveva sbloccare La quarantena Praticamente Ma ne ho beccato Un sacco di roba Ok Salviamo Che sto anche Qui tranquillo E andiamo avanti Si Allora Il fucile Comunque È molto utile L'arma secondaria Ma ancora Non ho capito L'arma secondaria E l'altra Pistoletta Che serve Non ti posso salvare Mi dispiace Posso aiutarti a morire No Non c'è più bisogno Sei già morto Ok Questi modi sono diversi Madonna Era pure Velocissimo Aia 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 Tipo meta E' uscito qualcosa La munizione Niente È più forte di me Mi confondo sempre Forse perché è invertito Ops Dai Ho sentito E' attenzione È morto Porca di me La misera Ma è detta Che schifo Schifoso Ma pure da qua dentro Uscite Sto fucile Non ho tanto capito Che c'è qua Che c'è qua Ah Senta qualcosa di grosso Che si muove È un po' ambigua Detta così Non può fare niente La piazza La piastra shock Lo dobbiamo utilizzare Di qua O c'è qualcosa Per noi Ad un momento Perché là Ci siamo già stati Di tazzi Ma c'è qualche affanno Qualche problema Ma di qua Non mi recupero Ok 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 Ops Non mi vale questo, prego ce l'abbiamo fatta parca di quella mi sarebbe maledetta maledizione ricarichiamo la stasi ci andiamo non ho alti? si non ho capito se il fucilio non è buono o sono questi che sono più forti c'è un sacco di api qua dentro, ha insetti roba del genere negozio se riuscissimo a migliorare l'arma sarebbe forse una cosa migliore ma ho 7.000 crediti bombolera piccola stasi inventario cassa forfe quindi no, non c'ho più niente vabbè ragazzi io penso che questa parte la possiamo per adesso terminare qui sapete tutti i commenti cosa avete pensato e ci vediamo al prossimo video bye ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.